Continua il periodo positivo di ripresa dell'emergenza coronavirus nel Cilento e nel Vallo di Diano. Seppur l'attenzione resta alta, la situazione nei territori del parco ha preso risvolti ampiamente positivi. Nel Cilento restano una manciata di casi di Covid-19, tutti in via di guarigione. Tre ad Agropoli, uno a Casalvelino e San Mauro Labruca. Il Vallo di Diano contava ben 154 casi, l'apice per numeri dell'emergenza, ma nell'ultimo mese questo dato ha subito un decremento fortissimo fino a scendere all'attuale numero di meno di 10 positivi rimasti. Massicce le operazioni di screening messe in campo sul territorio da tutti i paesi del comprensorio con migliaia di tamponi effettuati. Nella provincia di Salerno ieri i laboratori dei Ruggi ed Eboli hanno analizzato 186 tamponi, di cui uno solo è risultato positivo agli esami.